bene raga ben ritrovati in un nuovo video sul canale oggi per la prima volta apriamo fifa 22 ma fanculo sta partita pacchetto iniziale serie a d'ambrosio una bomba andiamo avanti lukaku assolutamente questa in casa poi fuori casa figa questa questa fuori casa blackburn rovers e via e adesso cominciamo col pacco pen in serio intanto apriamo l'anteprima di questo pacco che non è neanche una bandierina portogallo nani primo pacco ma su a q quest'anno voglio assolutamente trovare un icon sarà difficile però bandiera intanto walker golosissimo e lui è un 100k è più o meno se non sbaglio e dio poi 80 mila subito prima sculata walker inglese sempre esterno sinistro e z ok miranda tedesco esterno destro baku chiluel 82 per il drop proviamo questo pacco promo da 350 fifa points zero bandiera italia esterno destro politano basta mi ha dato walker non mi dà un cazzo bandiera almeno belgio esterno sinistro carrasco 84 ultimo da 300 fiap points e poi torniamo if esterno sinistro smith row non so forse mi piaceva di più il corridoio come effetto per aprire il pacco però così è molto più rapido per aprire i pacchetti dai cazzo un workout tino simone dai almeno le bandierine ma di ho fatto questa roba sulle schiena bandiera attenzione ciò ci fa den 84 e lui vale qualcosa hernandez lui e beh 16k e mezzo ma lui niente pensavo di più valoso a bandiera back to back andrea silva walk out oh goliosissimo sterling 88 60k gallese esterno destro bail mamma mia mille crediti francese esterno destro icone walk out tino ma una merda la padulia svedese attaccante isaac newton spagnolo terzino sinistro reggiglion oh bandiera uh mamma uh vambissacca sarà walker di nuovo era golioso non male 25 argentino cdc rodriguez lui forte francese cdc si soccò e lui non è male il bug per eccellenza 2500 ma dove vivemo italiano portiere cragno bandiera brasiliano centrocampista artur porco zio italiano esterno sinistro e sciaraui acquistiamo l'anteprima così apriamo un'altra anteprima e via una bella merda una bella merda una bella merda dc viltman ma neanche una bandiera più porca miseria pjanic brasiliano dc gabriele uh bandiera inglese dc maguire spagnolo centrocampista fabian brasiliano centrocampista lucas paquetà italiano esterno sinistra e sempre lui e sciaraui uh walker almeno e un walk outino 87 porca troia 9000 bandiera mamma mia sabitzer sarà di nuovo walk out veniva giù la community bandiera back to back olandese AT De Pai 85 e lui e lui è golioso eh si 15k tedesco c o c weirs francese esterno sinistro di a b 81 valioso e costecchi anche mille crediti inglese AT kent inglese esterno destro eccolo ma due che francese esterno sinistro di hop mmm dai spagnolo c o c isco 82 ah ha messo un carri ad osso pensavo che era un icon casco invece oh bandiera argentina attaccante i cardi finiamo il video con sti ultimi 4 pacchetti promo bandiera back to back eccolo qua Kovacic ultimo pacchetto promo e non è niente ultimo pacchetto promo e abbiamo trovato junior ultimi due pacchi da 150 e possiamo anche essere contenti di questo pacco opening abbiamo trovato di tutto suso si finisce con un icon villa 76 lui vale boh sterling aguerro abbiamo trovato walker depai carasco foden andre silva e boh un nuovo video sul canale bella raga copine qua tagation e st sp 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 sp